In Serie D la zona play-out potrebbe stravolgersi a partire da domani. Alle 15 ci saranno infatti due recuperi, quello della 27esima giornata, con protagonista Lavelle e Nardò, e quello del trentesimo turno, con in campo Nola e Rotonda. Tre di queste quattro squadre occupano rispettivamente il quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo posto in classifica ed in ballo ci sono punti pesanti in ottica salvezza. Chi osserva da debita distanza il Lavello, che come detto ospitare il Nardò. I Lucani hanno messo a segno sette punti nelle ultime tre giornate e sperano in un successo che permetterebbe loro di scavalcare in un colpo solo Altamura e Molfetta, trovando il nono posto in classifica. Non sarà però semplice avere la meglio su un Nardò, reduce da due vittorie esterne di fila, 2-1 a Casarano e 5-2 a Rotonda. Con un altro successo, i Naretini avrebbero la possibilità di raggiungere Nola e Mariglianese a quota 37 punti, sgusciando via dalla zona play-out. Sempre ammesso che il Nola stecchi lo scontro diretto con il Rotonda, che dal proprio canto avrà la possibilità di agganciare la zona tranquilla della graduatoria. I biancoverdi nelle ultime uscite hanno fatto il bello e il cattivo tempo, alternando vittorie di misura a sconfitte pesanti. Una formazione che senza gli otto punti di penalità occuperebbe il nono posto, ma che invece sarà chiamata a lottare fino alla fine se vorrà ottenere la salvezza diretta. Il Nola sarà certamente un cliente scomodo, che tornerà a giocare in casa oltre un mese dopo l'ultima volta. I campani hanno fino ad ora dimostrato di riuscire a dare il meglio di sé fra le mura amiche. I quattro punti messi a segno nelle ultime quattro giornate ne sono piena testimonianza.